Mi chiamo Alteaga Bellini e sono Head of Country del Team Italy di Project Access, però sono anche una studentessa da tre anni nel Regno Unito, studio Filosofia, Politica ed Economia al King's College di Londra. Penso che una delle migliori qualità dello studio nel Regno Unito sia il fatto che viene richiesto l'input dello studente, quindi sono molte occasioni per esprimere la propria opinione e anche il modo in cui lo studente viene esaminato, soprattutto mediante la sesura degli essay, ovvero dei saggi argomentativi, danno molta possibilità di sviluppare il proprio pensiero critico ed esprimere le proprie opinioni sugli argomenti studiati. Grazie 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 Grazie